C'è sfuggito per un pello giovanotti ragazzi sta andando via ora, non ci ha concesso la intervista a Quasi Radio però non ci si abbiamo provati, eravamo sotto il palco, niente un concerto bellissimo qui a Polichoro, che dire, siamo contenti di essere stati qui in questo momento sotto questa luna fantastica, ciao! C'è sfuggito per un pello giovanotti ragazzi C'è sfuggito per un pello giovanotti ragazzi come Polichoro Noi siamo stati protagonisti di un evento spettacolare, non potevamo essere venuti in Basilicata e non venire al concerto di giovanotti, ci ha fatto cantare e ballare per tre ore, per tre ore la gente di Polichoro ha cantato e ballato in una discoteca davanti al mare. Un bellissimo spettacolare con un'iniziativa molto bella nel senso che domani mattina qui non dovrà esserci più niente, tutto pulito e domani tutto al mare qui a Polichoro. Che dire, sono contento di essere stato al concerto giovanotti. Ciao ragazzi, alla prossima avventura!